Secondo uno studio della Stanford University, gli sistemi di intelligenza artificiale farebbero sino all'88% di errori giuridici. Questi errori vanno ad aumentare, questa percentuale va ad aumentare man mano che i casi diventano più complicati. Hanno analizzato tra l'altro che questi sistemi di intelligenza artificiale ancora non parlano il cosiddetto legalese, quindi termini giuridici, lessico giuridico da inserire appunto nelle sentenze, negli atti giuridici e nei contratti. E hanno visto che affiderebbero a dei giudici noti, questo in America, delle sentenze che in realtà questi non hanno mai scritto. Tra l'altro ancora ragionerebbero con delle premesse errate tipo perché il giudice tal dei tali ha autorizzato le unioni gay tra le coppie omosessuali. Questo era uno dei casi analizzati nella Stanford University che ovviamente essendo una università americana analizza quello che è il mondo e la cultura giuridica americana. Aveva utilizzato delle premesse errate per arrivare a delle conclusioni errate il che è quantomeno assurdo oltre che può portarti a dei danni irreparabili se utilizzati in un giudizio. Quindi io mi chiedo, dopo tutto quello che ti ho fatto vedere, ti ho fatto vedere il perché non sei in grado, non puoi essere in grado di utilizzare tu chat GPT per farti redigire i contratti. Ti ho mostrato come un avvocato con 30 anni, 30, 30 anni di esperienza alle spalle, quindi non un avvocato di primo pelo o un praticante avvocato, ha utilizzato chat GPT per farsi scrivere le sentenze e guarda un po' cos'è accaduto se le era fatte scrivere tutte errate. Chat GPT se le era inventate e oltre alla perdita di reputazione, perdita economica, problemi col magistrato, questo avvocato ha fatto una bella figuraccia. Ma tra l'altro quello che volevo dirti è che tu non hai bisogno di chat GPT. Prima di chat GPT esistevano i libri, esistevano appunto i cartacei ma anche i pdf con le analisi di vari contratti, quindi praticamente avevi dei template scritti da avvocati e magistrati. Ebbene già in quel momento non ti servivano a nulla perché tu non sei in grado di capire fra i 100.000 contratti che ci sono qual è quello che si applica alla tua situazione. Purtroppo la Civil Law, quindi la giudisprudenza italiana, il codice civile italiano hanno una miriade di articoli e ogni uno di questi articoli può essere trasportato in un contratto, ovviamente gli articoli relativi ai contratti. E cosa accade? Accade che tu non sai prima di tutto quale, per esempio hai un sito, vuoi realizzare un sito internet ma cosa utilizzi? Un contratto di appalto di servizi, un contratto di fornitura di servizi, qual è la differenza delle due? Qual è la differenza tra B2B e B2C? Ancora, un ammesso e non concesso che dici vabbè utilizziamo appalto di servizi, copia e incollo, ma come fai a capire se tutti quegli articoli possono essere applicati a te o alcuni di quelli non possono essere applicati a te? Come fai a modificare quegli articoli se non capisci nulla di diritto, se non lo hai studiato il diritto? Come fai? Non puoi, praticamente non puoi perché non sei in grado di capire le sottigliezze. Come faresti a modificare un articolo? Ancora, last but not least, come direbbero gli americani, non sei in grado di andare a modificare gli articoli o a cancellare degli articoli e o ad aggiungerne degli altri, ad esempio le penali e altri. Poi alcuni di questi libri, appunto essendo libri, non sono aggiornati così come nella giornata chat GPT. Ricordo quando facevano questi template con l'inserimento delle clausole vessatorie da accettare e le inserivano tutte, in realtà no, perché la giurisprudenza diceva che le clausole vessatorie non possono essere inserite tutte, sei tuo avvocato che devi dire al cliente quale di queste devi inserire affinché il suo cliente, quindi il cliente finale, possa conoscere per filo e per segno in maniera molto specifica quali sono le clausole vessatorie. Non le puoi indicare tutte, ebbene in questi template scritti da magari commercialisti o avvocati bravi, vi erano riportate tutte perché? Perché magari hanno scritto un libro a un tempo di redazione, poi di correzione di bozze eccetera, magari era stato scritto un paio di anni prima tutti questi aggiornamenti giurisprudenziali e quindi cosa è accaduto? È accaduto che un bel buco nell'acqua ha fatto chi utilizzava questi contratti. Quindi mi raccomando, sei serio, sei dotato di un po' di buon senso e contattami se vuoi un contratto fatto bene. Ciao dall'avvocato Oreste Maria Petrillo, l'esperto della consattualistica digital in Italia.